Ciao, guardate chi è venuta oggi, ha toccato, ha toccato a me, tesoro. Benvenuti a tutti, godiamoci insieme questa nuova puntata, oggi c'è Ambra, ditemi cosa ne pensate. Ciao, viva i pelosi, i piumati e tutti! Iscriviti, subscribe please! Ciao a tutti, ciao Lucia, ciao Rullo, ciao a tutti tutti tutti, come state? Noi stiamo bene. Partiamo con l'argomento di oggi, allora andiamo su un altro bellissimo argomento, partiamo con questo bellissimo argomento che è molto bello, molto interessante, ho fatto un sunto di un sunto perché comunque sia, se no si aprirebbe veramente una live da mille e una notte e anche no, anche perché le mie competenze arrivano fino a un certo punto come educatore, perché poi come sapete nell'aggressività ci sono altre figure che lavorano con i nostri animali, non un educatore, quindi io vi spiego quello che fa parte del mio, di quello che io ho studiato, di quello che io ho conosciuto. Allora, partiamo dal principio, quindi l'aggressività del cane può essere sia con altri cani oppure verso altri animali che possono essere gatti, galline, uccellini eccetera e umani. In natura, tutti dicono, ma non puoi fare l'esempio della natura, sì, perché l'animale come ricordo sempre ha ancora il 100% dell'istinto, in natura con l'aggressività usata nel modo appropriato ovviamente il cane ottiene accesso alle risorse, risorse che possono offrire vantaggi, quindi il cibo eccetera eccetera. Quindi questa parte qua noi non dobbiamo dimenticarla, perché è il nostro cane, il nostro animale. Possiamo partire dalla genetica, quindi le caratteristiche di razza del cane, piuttosto che i genitori, il cane maschio e il cane femmina. Ricordatevi che se due genitori, due cani aggressivi hanno avuto una cucciolata, 25-50% di possibilità, di rischio che anche il cucciolo diventi aggressivo c'è. Tutti e due, hai detto, se tutti e due sono aggressivi. Sì, poi anche lì ci può stare tante volte che c'è magari o la mamma o il papà, lì più o meno si capisce nella cucciolata comunque, appena nascono può succedere che comunque ci sia il cucciolo più forte, più determinato, si capisce subito. Quindi su quel cane lì va lavorato, va iniziato il percorso subito, appena finito lo svezzamento. Le caratteristiche attitudinali del cane. Quindi qua bisogna anche, e sottolineo, che ogni individuo è a sé, con caratteristiche uniche. Proprio per questa motivazione qua, la vecchia scuola, l'old school, quindi il gentilismo, è sbagliato. Perché il gentilismo vede tutti i cani di quella razza con lo stesso carattere, caratteristiche di razza, eccetera. Ti hanno dato della gentilista, infatti. Che fuori, ma neanche morta. Poi, l'aggressività può essere anche dovuta a neurotrasmettitori. Quindi lì però è una problematica che io non apro, perché lì ci vuole un comportamentalista, ok? Quindi è un individuo che nasce con delle problematiche, che vanno seguite con dei farmaci e un percorso mirato su di lui, ok? Poi l'ambiente di vita e le esperienze, quindi l'expertising che al cane fanno, possono creare aggressività. Perché? Perché, per esempio, sul discorso dell'ambiente di vita, come vive il proprietario e il cane, determina come diventerà il cane. Quindi, se il cane, il proprietario, mena tutto il giorno il cane, il cane imparerà che con l'aggressività si ottiene le cose. A meno che non diventa un sottomesso di quelli che appena proprio vede una mano che si alza, si sdraia per terra. Poi risponderai alla nostra amica Cetti, che dice che non esiste cane aggressivo alla nascita. Questo poi se rispondi dopo, io andato te lo segno così. Allora, lì infatti ho detto che si parla di neurotrasmettitori e ci vuole un comportamentalista, un veterinario comportamentalista che ne parla. Perché ci sono un caso su cento cani che nascono con problematiche di serotonina bassa piuttosto che altre problematiche che può sfociare in aggressività. Quindi è inutile dire che non esistono. Ci sono rarissimi, ma ci sono. Quindi lì, però è un argomento che non mi compete perché non ho studiato medicina, magari la teniamo per quando verrà la veterinaria. Sì, arriverà presto e mi raccomando, cinofili, venite perché avete detto che ne sapete di più dei veterinari. L'aggressività può essere anche dovuta all'esperienza di vita vissuta del cane. Perché se il cane ha associato l'incontro di, non lo so, un cane più grande di lui come un'esperienza negativa, ovviamente con poi la crescita del cane ogni volta che vedrà un cane più grande partirà in aggressività. Perché? Perché ha marcato male la sua esperienza di vita con un determinato oggetto piuttosto che con un cane o una persona. Magari le persone col cappello in testa, eccetera. Quindi fa anche tanto quello al nostro cane. Per quello che è importante le socializzazioni, ma non solo le socializzazioni, come dicevo l'altra volta, nelle classi di socializzazione fra cani, ma anche la socializzazione di portare il cane a spasso, portarlo al bar, portarlo sul lungomare in spiaggia, portarlo nelle città. Perché più il cane ha esperienze ed emozioni positive, più il cane sarà un cane equilibrato che si sa muovere in tutte le dinamiche e le cose che gli succedono. Perdonami. Allora, poi Antonella ti rispondiamo, se è possibile. Cetti, scusate, è la prima volta che passo. Benvenuta dalla vostra live, mi potete dire su che basi vi esprimete. Ambra è un'educatrice cinofila. Io semplicemente ho avuto sui 25 cani. Basta. Questo. Io sono educatore cinofilo di terzo livello, SIWA, iscritta al FIX, quindi approccio cognitivo zooantropologico o scuola di interazione uomo-animale. Allora, adesso ho l'ultimo pezzettino da spiegare, è velocissimo perché andiamo e poi rispondiamo a tutte le domande che avete fatto, che oggi veramente ne avete fatti tante e siamo contente. L'ultimo discorso, l'ultimo pezzetto che può determinare l'aggressività del cane è il discorso famosissimo ormonale, ok? Quindi lì l'ormone si guarda tanto sulle motivazioni di razza, quindi in base alle razze ci sono delle razze che ovviamente hanno più tendenza a essere competitivi, ok? Quindi l'ormone va sulla competitività e sulla dominanza. Allora, in natura cosa serve? Per riprodursi, ok? Quindi un alto livello di, l'ho scritto perché non mi ricordo mai come si chiama, l'androgeno che sarebbe il testosterone umano, può creare forte dominanza e competizione nell'indrogeno. L'androgeno può creare appunto questa forte competizione soprattutto tra maschi, perché come ho detto in natura la riproduzione ci sta, va visto sempre quello. Su questo caso specifico per esempio la castrazione può essere utile, perché? Perché in questo caso qua la castrazione dallo 0 all'80% può servire, ma solo in questo caso. Nel discorso invece genetico, neurotrasmettitori, le esperienze eccetera, la castrazione non serve a nulla. Quindi, prima di castrare il cane per calmarlo, parlate con un veterinario comportamentalista o con un istruttore cinofilo che vi sa dire, sì, è un problema ormonale, la castrazione può essere utile. Non ascoltate l'asciura Maria che vi dice, ah no, ma la castrazione lo calma. Non è detto. Se non è una problematica ormonale, voi potete castrarlo che il cane non cambia, anzi, a volte peggiora la situazione. Ok? Sono stata chiara? Molto, ma molto chiara. Io direi, rispondiamo un po' alle domande e poi vi spiego anche quando eventualmente si attaccano due cani, il fatto di non avere troppa paura. Vado un po' indietro, allora vediamo un po'. Allora, Antonella aveva esposto un problema, Abbaia quando vede persone che non le piacciono, sono cinque mesi che fa così. Forse qualcuno le ha fatto qualcosa. Allora, anche lì bisogna capire perché Abbaia verso queste persone. Uno, individuare che tipo di persone, quindi che target ha etichettato il tuo cane che gli fa paura. Perché se per esempio può essere una persona, non lo so, sulla sedia a rotelle, si può far conoscere al cane la sedia a rotelle, perché ovviamente il cane non riesce a capire che è una sedia a rotelle. Quindi a volte per paura, parte in Abbaio per dire, stai in là perché mi fai paura. Sembra un'aggressività, ma è un'aggressività per paura. Quindi, una volta che hai individuato quello che ha il tuo cane fa paura, ci puoi tranquillamente lavorare. Se invece sono persone indistintamente diverse una dall'altra, forse il tuo cane ti sta lanciando un campanello d'allarme, perché ricordiamoci e ricordatevi che il cane sente degli odori emozionali che noi non sentiamo. Quindi, se al nostro cane non piace una persona, non obbligatelo, forse non dovrebbe piacere neanche a noi. Ok? Sì, sì, sì. Chiara, chiara? Troppo bella diretta. Allora, ciao Mary, il mio cane salta addosso a chiunque, viene a trovarmi a casa, in strada no. Eh, sì. Il mio cane salta addosso a chiunque, viene a trovarmi a casa, in strada no. Cioè, non ho capito se il tuo cane salta addosso, ma in aggressività, o per fare le feste. Dici Mary. Ecco. C'è, i miei per esempio abbaiano solo perché salutano chi conoscono. Per le feste. Sì, però anche lì sarebbe da valutare se lavorarlo, perché comunque può essere fastidioso. E comunque ricordatevi che le feste non vanno a secondate, perché è un accumulo, le feste che il cane ci fa quando noi rientriamo in casa, è un accumulo di stress dalla solitudine. Aspetta perché io mi ricordo che indietro ho visto una domanda interessantissima. Sì, ce n'era un'altra. E la vado a cercare. Allora, si può prendere il patentino per diventare educatore dei cani? Marina Do di G971. Sì, Marina, devi studiare perché i corsi, quelli riconosciuti a livello nazionale o internazionale, come per esempio il mio, sono anni di studio. Studio, poi c'è tanta gavetta sia al canile sia come tirocinio, sono anche soldini, però poi tu hai il tuo diploma da educatore o istruttore o quello che farai. Difidate dagli attestati di partecipazione, quelli non sono educatori cinofili. Ok? Che sia chiaro per tanti. Ah no, guarda, c'ho l'attestato. No, l'attestato non è riconosciuto. Esatto, è un attestato di partecipazione. Tutte le scuole serie sono per forza obbligatoriamente appoggiate o al FIX, o al SEN, o al ENCI. Sono andata in addestramento, ma continua, essendo un doberman è pesante, immagino. Immagino. Per le feste, ok, per le feste quindi non c'è un discorso di aggressività. Le feste, come dicevo, non vanno assecondate, quindi va fatto un lavoro di ignorare. Ora, una volta il mio cane fece la pipì sui piedi di una persona, anche lui portava il suo cane. Questo succede spesso. Succede anche spesso durante i picnic che magari ci sono dei cani col flexi che ti pisciano nella schiena. Mamma mia! Umani vengono, cioè gli si fa la pipì addosso, umani che hanno altri cani che magari sono lontani o distratti. Sì, lì lo fanno più che altro per una marcatura. Ma l'educato è il padrone, non il cane. Appena io dico basta loro si calmano, ma tu non dovresti assolutamente dirgli nulla, perché devi lavorare sull'autocontrollo del cane, quindi non devi dargli un comando. Sono andata in addestramento, ma continua essendo un Doberman, è pesante. E l'addestramento prova con un educatore. Perché comunque non va assolutamente bene che un Doberman salti addosso. Anche perché poi quando lo farà da grande, o se magari è già grande, anche se lui lo fa con le buone intenzioni, può succedere che trovi una persona che ha paura e tu paghi i danni. Perché poi c'è lo shock emotivo, questa persona magari cade perché si spaventa, batte la testa e sono cavoli amari. Sì, il cane non deve saltare in braccio. L'attestato è appunto che si è partecipato a un corso senza averlo conseguito. E lo so, però c'è tanti che lavorano con un attestato in mano. È quello che dico, aprite gli occhi. Chiedete le referenze. No, Mary, ti posso assicurare, se tu vai sul sito della SIWA, scuola interazione uomo animale, con l'approccio cognitivo noi siamo obbligati a venire a casa. Perché il cane a casa si comporta in un modo, in un centro cinofilo il cane si comporta in un altro. E un educatore buono per capire che problematiche ha il cane, deve vederlo in ambiente domestico. Quindi con la sua famiglia, col suo branco. Lei dice che non vengono più a trovarla perché c'è il dopper. Ma te credo. 40 kg di cane è dura. Anche se lo fa per giocare, però giustamente quando salta su è imponente, può far paura. Anche se è un patatone. Ed è un vizio che devi togliergli assolutamente. Perché il rischio è alto. Ma non di aggressività. Il rischio è alto perché lo fa con un bambino, con una signora di una certa età, questa si spaventa, cade, tu paghi i danni a vita. Ecco, c'è qualcuno che la pensa come te, eh, Ambra? Pic, guarda, io ho anziani e vecchietti tutta la vita. Ciao Angel. Ciao Angel. Perché, ma anche non anziano, cioè io sono proprio per l'anziano, cioè dai 15 in su, se no non adotto. E sono quelli che di solito non vuole nessuno e mi piace l'idea di fargli fare gli ultimi anni di vita bene. Sì, tranquillo, felice, sì. Esatto, però ci sono anche tantissimi cani intorno ai 4, 5, 7 anni che sono strepitosamente fantastici perché sanno già tutto e in più hanno provato il canile. Quindi quando ve lo portate a casa 99 su 100 voi non dovrete insegnargli nulla. Sanno tutto già. Allora, dice Mary che con i bambini stranamente non lo fa, si ferma. E meno male, meno male direi. E rispetto del cucciolo. Io ne ho tre, ma dopo questo sarà un anziano. Eh, sì, sì, sì. Sì, gli anziani sono, poi io l'ho sempre detto, una marcia in più. I nonnini, i famosi nonnini, dolcissimi. È vero? Perché poi li vedi in canile che sembrano dei catafalchi, tutti storti, sbilenchi. La volta che poi lo adotti, ma a distanza di un paio di mesetti, lo adotti, li fai un bagnetto e ha trovato la sua quotidianità, diventano ancora dei fighi pazzeschi. Sì, rifioriscono. Sì. E quindi dal rottamino che era prima diventa ancora un bel cane. Eh sì, perché tutti vogliono fare fighi col cane di marca, diciamo, tra virgolette. Però bisogna fare i fighi anche col cuore, no? Eh. Sì, una tenerezza incredibile. Ci insegnano tante cose. E poi ricordatevi che il cucciolo ci vuole tanta, 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 tantissima pazienza, tanti soldini, perché tra veterinario, l'educatore, o l'addestramento, quello che è, vaccini, mica, vaccini, sterilizzazione, eccetera. e oltre a tanta, 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 tanta pazienza, per l'amor di Dio, ci sta. Il vecchiettino non ha bisogno di nulla a tutto questo, perché lo sterilizzano già loro. Sì, ha bisogno di un bagno, sicuramente, di tante coccole, ma tutto il resto vedrete che sa già fare pipì fuori, ci avrà i suoi orari, perché capisce i tuoi orari e si adatta, non come il cucciolo che tu devi adattarti ai suoi. E l'educazione non ce n'è bisogno, perché sono tutti, quasi tutti, normo comportamentali stupendi. Sì, sì. Sì, è vero, ne vedo tantissimi. Sono così? Sono così. Allora, quindi non devo sgridarlo, no, sgridarlo mai. Vero, Ambra? Allora, mette, aspetta, quindi non devo sgridarlo, assolutamente no, lo dobbiamo solo ignorare. Sì. L'addestratore mi disse di mettersi il guinza. Allora, tu devi, guarda il cane in natura, ok? È importante che voi vi ricordate questo, che il cane ha ancora il suo istinto al 100%, anche se è domestico, ok? Vive ancora di istinto. La meraviglia del cane è proprio quello, noi l'abbiamo perso, loro ce l'hanno. Quindi, in un branco di cani, se un membro la combina, tutti gli altri membri lo isolano e lo ignorano. Perché questo? Perché in natura un membro isolato e ignorato è rischio di predazione. Ok? Quindi, noi dobbiamo semplicemente imitare quello che fa un branco in libertà. io ti isolo, ti tolgo dalla socialità, ti ignoro completamente, non esisti, non ti guardo neanche con la coda degli occhi. Per quei 5-10 minuti e vedrete che il cane capisce da solo. Non è non dandogli da mangiare che il cane capisce. Bisogna ascoltare. Piccola parentesi e frecciatina mirata. Ripeti, ripeti. Che non è non dando da mangiare al cane che il cane capisce. Ecco. Ok? Il guinzaglio, no, no, il guinzaglio in casa assolutamente no. Tu puoi mettergli il guinzaglio se, ipotesi, voi siete in passeggiata, vai in un bel prato, che ne so, gli dai più spazio con il guinzaglio. Quindi gli dai i tre metri o gli dai la longhina che ha anche più metri. Se lei in quel momento, non lo so, vede un altro cane e reagisce male, tu la richiami, la corci il guinzaglio. Quello può essere un castigo. Ti tolgo dal bello di essere libera e ti rimetto al guinzaglio perché hai sbagliato. Ma hai libertà. Il guinzaglio in casa, ragazzi? No. No. Ma è come il kennel in casa, cioè, secondo me, no. Che poi il kennel può diventare la sua cuccia, allora ci sta. Ma la sua cuccia, non il posto dei castighi. Ecco, diciamolo, perché a volte si fraintende che tu sei contraria a tenere un kennel in casa. Io sì. Sì, sei contraria, però spiegalo come l'hai spiegato ora. Non per castigo, allora, purtroppo, il problema di tantissimi allevatori barra addestratori è che quando il cane scoccia o la combina o quello che è, viene chiuso nel kennel. Quello è lo sbaglio che si può fare. È lo sbaglio più grande perché uno, il cane associerà il kennel come un qualcosa di brutto. perché l'emozione è brutta. Invece il kennel se è lavorato nel modo giusto deve essere la sua zona sicura dove nessuno gli fa nulla ma anche solo il fila a cuccia non si fa perché si va a marcare male un luogo dove per lui deve essere la sua zona neutra. Supponenza non lo so come si può tenere un cane in quel guinzaglio in casa sinceramente. Aspettate che siete caduti. Siamo caduti io il kennel lo chiudo è la sua cuccia aperta lui ci va da solo a giocare che ne pensi? Allora se è un discorso che è la sua cuccia aperta sì perché lì in quel caso lì il kennel può anche essere marcato positivamente quindi sposto il kennel poi in macchina o alla pensione o quello che è e in automatico il cane ha casa sua sempre dietro quindi ci sta se il kennel è marcato come la combini ti chiudo nel kennel oppure come tantissimi fanno vado al lavoro non voglio che il cane mi faccia danni e quando sono al lavoro il cane sta chiuso nel kennel io quella gente lì li metterei in galera tutti tutti dal primo all'ultimo mamma sì Elena io ho una dependance è il mio kennel quindi sta lì sta lì dove sta fuori purtroppo lucia succede perché c'è tanti allevatori e tanti addestratori che danno proprio questo consiglio il cane ti fa il danno ok chiudilo dentro il kennel finché vai al lavoro oh ma no no vedi mi disse per frenarla quando vengono ospiti se tu allora ascoltami tu hai un cane che vive nel tuo branco familiare quando arrivano ospiti tu lo isoli da una cosa bella familiare secondo te come marca il cane quando arriva gente in casa aspetta scusa l'X che deve leggere ancora la prima parte io vi leggo tutti è che non posso interrompere ma vi leggo vi tengo un po' di considerazione comunque te lo dico io marca male perché perché il cane ok arriva gente wow che bello sente l'odore delle vostre emozioni e il cane vi finisce nel kennel quindi lo togliete da un qualcosa di bello quel cane marca il kennel malissimo in più può sfociare un'aggressività poi verso chi ti arriva in casa la volta che non lo chiudi nel kennel allora c'è l'X che la prima parte era io li chiudo anche in kennel ma non è mai punizione lei ha i cecoslovacchi ma non è mai punizione sempre in positivo poi continua e quindi come si manda in estinzione un comportamento e il kennel è il trasportino è la gabbiotta sai Mau perché li chiudi nel kennel innanzitutto domanda iniziale che vorrei sapere se non li chiudi per né andare al lavoro né per castigo perché li metti nel kennel e li chiudi io avevo una pitbull che quando era stufa dei fratellini andava dentro al kennel e si chiudeva dentro perché non ne poteva più con la maniera ma era cucciolina si chiudeva era un genio un genio io ne ho visto una che si chiudeva poi c'era la cappertina sopra sganciava anche per mettersi il buio sono incredibili veramente li stiamo sottovalutando guarda sempre più convinta di questo assolutamente il kennel è il trasportino che può variare di dimensioni anche gigantesca non l'ho chiuso ma non l'ho fatto uscire in giardino perché con i due bambini avevo timore si ma eri allora non l'hai chiuso ma non l'hai fatto uscire è un po' un controsenso non l'hai fatto uscire in giardino perché i due allora forse non l'hai chiuso nel kennel ma l'hai chiuso in casa e quello cioè lo chiudi in casa i bambini sono in giardino ok ma perché metterlo nel kennel se lui stava in casa non ce n'è bisogno e se poi hai un cane che hai timore per i due bambini lavoraci ragazza perché non puoi mettere isolare un cane sicuramente un cane giovane con due bambini perché è follia ma i bambini tuoi perdonami perché se vengono da fuori è un conto se sono tuoi è un altro perché ho bisogno che il cane non sia sempre a controllare e gestire è come chiedere chiedergli di lavorare h24 no ho bisogno che il cane aspettate mi state sovrapponendo è difficile scusate allora no l'X the wolf dog allora perché ho bisogno che il cane non stia sempre a controllare e gestire è come chiedergli lavoro h24 no allora se tu vuoi che il tuo cane controlla e gestisce è una scelta che hai fatto tu del tuo cane quindi probabilmente io non so se hai fatto utilità e difesa o qualcosa del genere per insegnargli questo al cane noi per esempio quando facciamo determinate cose noi mettiamo o una bandana al collo del cane in modo che quando mettiamo la bandana al cane sa che entra in modalità lavoro o la pettorina tipo Siva la mia quando deve lavorare con altri cani o con altri cuccioli gli metto la pettorina e lei sa che entra in modalità lavoro senza o la bandana senza pettorina e senza bandana lei è libera di fare quello che vuole ah perché dice che il cecoslovacco è ipervigile e diffidente per memoria di razza ma non so ragazzi lavorateci io conosco tantissimi cecoslovacchi ho lavorato con due con dei figli dei bambini piccoli in casa e non abbiamo mai avuto nessun tipo di problema anzi abbiamo quasi dovuto lavorare sul contrario perché loro proprio erano protettivi verso i due bambini posso fare una domanda da ignorante come spesso capita la tempra di un cane cos'è? la tempra è quello che dicevo prima è quello che diceva prima è molto è molto dovuto comunque alla caratteristica di razza del cane quindi una tempra può essere una tempra tosta quindi quella dei bulli è la tempra bullo perché perché loro sono cazzuti non hanno paura di niente loro prendono parto vanno giocano e si ti distruggono a casa perché hanno quel tipo di tempra oppure c'è il cane che ha la tempra esattamente l'esatto contrario una tempra che è insicuro che non fa nulla se non c'è il proprietario che gli dice le cose eccetera eccetera quindi la tempra è un po' quello che è il carattere del cane ho capito io non voglio che non venga nessuno in casa mia solo i miei cani e mio padre ecco pic guarda questo c'ha i suoi pregi e i suoi difetti perché perché da un lato ci sta è giusto dall'altro però ti sei mai chiesto ok metti caso che succede qualcosa che tu devi stare fuori di casa e hai bisogno di un dog sitter che fai? ah giusto giusto che è un dog sitter che magari ti va a casa perché non vuoi portare il cane in una pensione ma lo fai andare a casa in passeggiate che fai? parlo di ovviamente può essere adesso non lo auguro a nessuno però un incidente o qualsiasi cosa che il cane rimane a casa da solo cosa fai? quindi quello è giusto da un lato ma dall'altro mica troppo perché io per esempio ai miei cani li ho abituati anche che entra gente in casa che non conosco e non è una questione la guardia loro sanno benissimo farla perché capiscono anche le intenzioni delle persone esatto ma perché? perché a me è successo mentre stavo andando a casa di avere un incidente in moto e io devo andare a casa a portarle in passeggiata erano le 18 del pomeriggio mi hanno ricoverato mi hanno tenuto dentro tre giorni io il mio primo pensiero appena ho riapreso i sensi ho detto ci sono i miei cani a casa da soli ma scusa mi viene una domanda spontanea alla luce anche di quanto hai detto prima se il mio cane prende il cibo solo dalle mie mani e io finisco che ne so all'ospedale con una gamba rotta per una settimana il cane non mangia no allora quello è una questione di mangiare solo dalle tue mani o meglio quello che tu gli dici di mangiare perché oppure arriva il signore posso dargli un biscottino tanti cani non lo mangiano allora il proprietario lo prende in mano glielo propone al cane il cane lì in quel caso lo mangia allora quello ci sta perché il cane deve imparare a mangiare solo soprattutto in giro solo da noi perché le polpette avvelenate sappiamo che ci sono quindi non può permettersi di mangiare tutto mangi solo se ti dico mangia quello che trova in giro se però io sono ricoverata ovviamente che magari il primo giorno il cane non mangia perché non capisce ma poi il secondo giorno mangerà perché è l'istinto di sopravvivenza di mangiare ok quindi non vi fate problemi di questo tipo qua allora dice Mary con l'area scorrimento per razze particolari sì o no più che razze individui ho sbaglio ambra con l'area scorrimento io lo uso noi lo usiamo solo ed esclusivamente su cani aggressivi forti e per un recupero di un'aggressività quindi quando dobbiamo lavorare su un cane fortemente aggressivo e morsicatore in quel caso usiamo il collare a strozzo perché perché uno ci ripariamo noi due evitiamo che il cane si faccia male solo in quel caso lì se no zero collare a strozzo strangolo eccetera posso permettermi anche di dire da profana chi non è addetto ai lavori e non sa adoperarlo è meglio che lo bandisca no il fatto è che non c'è un modo per imparare a usare il collare a strozzo quella è un'altra cosa che dicono loro i cinofili di nosotro che non c'è un modo per usare il collare a strozzo cioè io ho fatto l'esempio adesso non ce l'ho qua perché cioè un cappio come funziona? infili la mano tiri strozzi cioè non c'è nulla da imparare non c'è il giro di polso sta roba qua il cane si prende un bel colpo alla gola finché non impara che cazzarola se faccio quello mi becco il colpo alla gola non lo faccio più ma mi sembra il modo corretto di insegnare a un cane? a mio parere no perché il cane capisce in altri modi non facendogli del male è sbagliatissimo aspetta perché ho visto una domanda interessante di Lix ma l'ipervigilanza è il cane che si attiva per ogni rumore visto come pericolo senza kennel la morte l'ipervigilanza è un problema che hanno tantissimi cani soprattutto i cani di medio piccola taglia e l'ipervigilanza si può tranquillamente lavorare ed è anche facile da lavorarci non è nulla di chissà quale complicato bisogna solo insegnare al cane che non è quello il suo ruolo ma il cecoslovaco è ipervigilante di suo? no 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 gli ipervigilanti gli ipervigilanti per intenderci sono spessissimo volpini chihuahua pincher piccolini tenuti sempre in braccio tenuti sempre sullo schianale del divano sopra di noi e hanno sempre le orecchie anche quando dormono sì mi piace fare questi versi perché poi mi registrano mi registrano mi piaccio bello bello tanto ci registrano e violano le royalties ma va bene così Elena confermo i cani devono vedere vivere tutto per essere un cane equilibrato deve proprio fare quello bravissima aspetta chi hai letto adesso che ero presa da altre letture pic 76 ah ecco cioè Elena 17 l'ho letto pic 76 non posso perché assisto mio padre sì 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 ho capito ho capito sì sì il mio addestratore usa solo quello è iniziare a cambiare addestratore vedi io non accetterei mai di far del male al mio cane con un collara strozzo mai i piccoli abbaiano il cecoslovacco gestisce gli spazi e te pure assolutamente sì ma è siamo più sulla territorialità se proprio vogliamo con tutte le brutture che ci sono in giro le avrai viste anche tu no le brutture va bene supponenza con Dea come faccio con la tua con la sua ingordigia te l'ho già detto come fare le hai messi in atto con tutte quelle cose che ti ho detto te lo dico io no ecco quindi non puoi non potrai mai lavorarci ciao PS Project e vabbè non ci troveremo mai però sono gentile educata per l'amor di Dio l'X quando si offende è sempre bruttura noi non ci ricordiamo come era l'epoca prima dei social quando le persone erano più educate e prima di entrare nel personale bisognava litigare per qualcosa di serio e non svergognare davanti a tutti ora si entra nel personale in continuazione e gli altri non contano niente conto solo io solo perché come diceva Umberto Eco anche l'ultimo idiota ha la voce in capitolo no vabbè ho appena letto il commento di Mary infatti per quello che ho sgranato gli occhi troppo duro non voleva nemmeno che socializzava con gli altri cani altrimenti perdeva l'attenzione questo sta fuori di cervello questi sono i classici cinofili che dovrebbero strappargli il tesserino perché lei è il Doberman giusto? al Doberman se non sbaglio un Doberman non socializzato è una pistola carica senza la sicura sul mobile della cucina questi sono dementi non andarci più non fare danni Mary ti fanno danno Angel è proprio quello il fatto è proprio quello il fatto che loro fanno leva sul discorso che la gola è la parte più forte del loop del cane io voglio fare un semplicissimo esempio se veramente è così come dicono ma non lo è perché l'ha detto anche i veterinari è la parte più forte del cane perché ai pastori abruzzesi cioè i cani antilupo vengono messi i collari con gli spuntoni per i lupi perché il lupo dove attacca? alla gola perché e non possono dirmi ah ma il lupo non è un cane lupo è un canidis e la stessa cosa arrivano dalla stessa famiglia quindi un cane che vuole uccidere prende alla gola sotto non sopra sopra o di fianco è sottomissione voglio metterti giù alla gola vuole uccidere quindi che non dicano più stronzate perché il collo è la parte delicata del cane non è la più delicata ma è delicata e con questa spero di averla dette tutte spero no allora l'X ma cosa intendeva per socializzazione interagire a guinzaglio in area cani con cani conosciuti la socializzazione fatta nel modo corretto non la fanno le persone semplici dovete andare da persone competenti da quando il cucciolo è piccolo da quando viene tolto dalla mamma perché perché un cane adulto può insegnare a un cucciolo il cucciolo oltre a metterlo comunque nelle zone dove ci sono cani equilibrati la socializzazione è anche portarlo in città in un bar a fare l'aperitivo con voi che annusi altre persone quella è socializzazione annusare un nuovo quartiere è socializzazione quindi non c'è solo la socializzazione fra cani in area cani perché quelle sono classi di socializzazione è tutta un'altra cosa sì Lix ho capito che chiedevi anche a Mary a Mary ma il problema di Mary sei te Mary vero? è il tuo addestratore allora il Doberman è un cane meraviglioso sei in mani buone in mani inteso in questo caso mi fido di te in questo caso che sia un educatore equilibrato è un cane meraviglioso non lo roviniamo guarda lì è un discorso vasto nel senso che con l'utilità e difesa o cosa si può fare queste stronzate ma prima bisogna la base è l'educazione dall'educazione poi secondo me si parte si va verso l'istruzione verso l'addestramento mi sbaglio l'educazione è costruire il binomio la fiducia reciproca io mi devo fidare ciecamente del mio cane il mio cane si deve fidare ciecamente di me perché se no il mio cane non si fida di me non fa le cose io non mi fido del mio cane non gli do le cose perché ho paura liberarlo perché è di su ho paura metterlo in socializzazione perché è di giù e non avrete mai un binomio ben fatto e solido da quando non va più Mary e ci credo abbiamo trovato un equilibrio nostro e posso portarlo ovunque vedete sei risposta da sola il male in questo caso è dall'addestratore sì poi ci sono ammetto che ci sono anche delle femmine che sono molto più aggressive dei maschi quello lo confermo cani o addestratori? no 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 cani cani scusate ma ultimamente sono sciocata gli addestratori gli addestratori lo sappiamo lo sai che sono state fatidiche le tue parole ma tu non sai che ambiente è quello cinofilo te all'inizio e dicevo che sarà mai no perché ragazzi gli avevo detto guarda Lucia sì facciamole le live ma sei pronta alla guerra e lei va guardati e fa ma in che senso? infatti cioè parliamo di cani gli ho detto fidati imparerai che cos'è la guerra vedrai cosa c'è tra cinofili che io credo che sia la cosa più brutta e peggiore che c'è perché anziché supportarci e aiutarci uno con l'altro c'è guarda no comment ma no comment allora Mary io sono a forte nei marmi ma quella più importante di me quella che ti può aiutare è non si sa io sono io sono cittadina del mondo è itinerante diciamo così ecco lei è apolide sì adesso per esempio lo sto facendo sulle spiagge in Liguria hai capito ora inserisco le spiagge eh abbia capito mi prendo il sole mi prendo il sole mi diverto ci sono i cani i proprietari sono in relax quindi capiscono tutto perché non so non hanno la tensione del lavoro sono molto più rilassati e si lavora benissimo dice dove lavora dove lavori i cani i cani Mary allora io ho avuto un centro cinofilo in Valle d'Aosta dove ho portato io e il mio collega abbiamo portato un parco acquatico per cani con diverse piscine eccetera siamo stati un po' di anni insieme poi ci siamo sciolti lui ha continuato per un po' io ho continuato col lavoro che faccio a domicilio dove mi chiamano vado poi ora che è a pollide di nuovo è di nuovo a pollide come prima vero? lo eri anche prima sì 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 bellissimo comunque va bene ragazzi avete altre domande? all'inizio sì all'inizio sì però dopo dopo no e dopo è diventata una figata eh ma perché abbiamo aperto sta piscina per cani in Valle d'Aosta figurati ci hanno presi di mira tutti come i due pazzi che aprono le piscine per cani tempo ma neanche sei mesi tutti i centri cinofili della Valle d'Aosta hanno messo le piscine per cani questo troppo confermare Isabella come le live su TikTok che adesso fanno le live dei cani perché le facciamo noi eh sì certo certo allora l'estinzione grazie grazie l'estinzione del comportamento la prossima volta se mai ma l'estinzione del comportamento anche lì bisogna capire perché il cane mette in atto quel comportamento perché c'è sempre un problema di base la volta che si capisce eh quello si può lavorare con un cane così non si può dire a meno non è il nostro modo di lavorare noi dobbiamo vedere prima il cane in famiglia la gestione del cane in famiglia come si comporta vederlo al di fuori per capire la problematica del cane noi ci distinguiamo da tutti gli altri proprio perché noi vediamo il cane come unico ogni singolo cane è unico meravigliosamente è unico non tutti uguali fatti con lo stampino e su tutti i cani facciamo gli stessi esercizi ogni cane ha il suo percorso vero verissimo bisogna essere e non ci sarà mai un percorso uguale a un altro soprattutto allora ma infatti in campo era un angioletto tornata a casa sembrava carica morta è ovvio ma il problema è proprio quello che o te la addestrano loro ascoltano loro non ascoltano il proprietario oppure vai in campo il cane sa che andando in campo deve lavorare quindi è perfetto arriva a casa tutto torna come prima è sbagliato sì sì allora noi siamo in chiusura ragazzi allora dice ancora l'X ovvio parlo di cani che mecanizzano molto e quindi richiedono estinzione del comportamento come condizionamento lì è tra me è bellissimo bellissimo direi che è fantastico io ringrazio tantissimo che dal suo luogo di villeggiatura e di essere a Polide è presente comunque ora ci lascerà un po' decantare tutte le notizie che abbiamo appreso e riprendiamo poi a settembre grazie esatto grazie a te che siete stati veramente tanti tanti e molto carini educatissimi sempre siete educati devo dire la verità e inoltre oltretutto cosa siete stati anche pieni di domande di curiosità bellissimo è ancora qui con me vi è piaciuto? volete suggerirci qualcosa? lo so siamo in periodo di vacanza ma vi vogliamo tenere compagnia lo stesso alla prossima mi raccomando dite sempre la vostra con evocazione vero celibate o tesoro della mamma iscriviti subscribe please wow wow